Buongiorno, buongiorno caccatori, buongiorno a tutti i caccatori che seguono questo canale. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale tutti, perché domani seguiamo la Fiorentina e anche il recap di mercato e pre-Fiorentina-Verona tra mattina e prima serata. E nella seconda serata farò anche il commento di Napoli-Milan. Allora, vi dovevo da oggi pomeriggio il commento su quello spiacevole episodio accaduto a Gasperini, staff tecnico Atalanta e via dicendo. Allora, io non sto qui a difendere le offese di discriminazione che sono arrivate dal membro dello staff sicuramente evitabile. Ma tu, ok, che con la canicola il sabato pomeriggio vai ad accogliere, sei tifoso del Napoli, vai ad accogliere una squadra che sta arrivando, ok, che sta facendo un campionato fantastico, la vai ad accogliere e gli chiedi ad un allenatore che ha l'attenzione della partita a tutto lo staff? se stasera si scansa. Cioè io, questa retorica dello scansarsi, sarà che tifo una squadra medio, purtroppo medio-piccola ormai, come la Fiorentina? Ma mi sta sulle palle, perché è normale che se c'è una squadra più forte di un'altra questa possa vincere, anche contro una squadra che è in forma come l'Atalanta o metterla in difficoltà. Ma non significa che si scansa. Ok, allora tutti a indignarsi per le offese che sono state date, sicuramente evitabili al ragazzo che è andato. Ma smettiamola con sta cultura del sospetto da due soldi che si scansa, non vinci e fai andare avanti la Juve. È veramente insultante. Anche per dei professionisti che si trovano a fare un campionato pazzesco, un lavoro pazzesco come quello dell'Atalanta. Tu arrivi e lanci questi sospetti senza alcun tipo di prova, senza rispetto. Poi da Sarriano, dico anche, fa ridere che sta accusa di scansarsi. Arrivi dai tifosi di una squadra che ha perso, a detta dell'allenatore e di tutto l'ambiente, lo scudetto in albergo a Firenze, va bene, e voi parlate, e voi, diciamo, questo tifoso qui del Napoli parla di scansarsi. Ma portate, io dico rispetto per Gasperini, ma lo state facendo diventare simpatico. Viva Gasperini! Viva l'Atalanta! E basta con ste cazzo di cose contro l'Atalanta, rosicate, siete dei rosiconi, siete. Ce l'avete con l'Atalanta perché siete dei rosiconi. E io invece che ho una squadra, purtroppo, che ha fatto un anno che lasciamo perdere, io mi tolgo tanto di cappello di fronte all'Atalanta. Così si lavora. Progettualità seria, un gioco pazzesco, un'orchestra bellissima. Al posto di andare a dire alla gente che si scansa, fate anche voi riflessioni a casa vostra come le facciamo noi. al posto di lanciare accuse a chi fa campionati di studi. Avete rotto il cazzo, avete rotto. Con ste accuse, di scansarsi. Anche l'Inter ha perso due gare su due con la Juve. Cosa vuol dire? Che l'Inter si è scansata? La Roma si è scansata? Eh, cosa vuol dire? Il Napoli ha perso l'andata con la Juve. Si è scansato? Ma va, 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 va. Comunque partita, un 2-2 che per la Juve è come una vittoria, secondo me. Non tanto per questione di classifica, ma per come si era messa la partita con un'Atalanta che il primo tempo sembrava veramente il Barcellona di Xavi, Niesta, tanta roba. Cioè, merito agli avversari che hanno praticamente dominato il primo tempo. Primo tempo dominato, un'Atalanta pazzesca che ha fatto un possesso palla straordinario. La Juve è abbastanza in bambola, forse ancora sotto shock dalla gara col Milan che aveva perso in rimonta. Poi nel secondo tempo la Juve è venuta fuori un po' di più. Ha pareggiato su rigore. Questo è il primo rigore, diciamo, sono tipo quello che è stato dato contro la Juve col Milan. Sono sti rigori da regolamento che io non darei. Però sto regolamento qui li dà. Abbiamo un record di rigori dati in Italia rispetto agli altri campionati. Io sarei per abolire la VAR e per l'arbitraggio all'inglese. Quindi figuratevi voi cosa penso io di certi rigori. Però è andata così. Due a due. Il secondo tempo l'Atalanta poi è un po' calata. C'è da dire che l'Atalanta rispetto alla Juve ha delle riserve che sono, diciamo, non dico migliori della Juve. Ma siamo a quel livello. Perché se tu mi fai entrare dalla panchina Pasalic, Balinowski e Muriel. Questi giocatori qui che stiamo vedendo. Tanta roba. Zapata è una bestia, ma ve l'ho sempre detto. Quest'estate c'era gente che diceva no, ma è scarso. Ma come fai? Zapata è una bestia. Zapata è fortissimo. Zapata è un attaccante totale. 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 Va bene? La Juve, diciamo, ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Di non darsi per vinta. Di avere la capacità di non farsi tramortire. Di reggere l'urto. E poi nel secondo tempo soprattutto sprigionare. L'Atalanta aveva trovato il 2-1 nel momento migliore della Juve. In cui sembrava che la Juve potesse anche vincere. Poi la gara è stata equilibrata. A livello di gioco vi dico che avrebbe meritato di più l'Atalanta sicuramente. A livello di gioco l'Atalanta stasera tanta roba. Però era una partita che io davo per persa. Io pensavo che la Juve stasera perdesse. Infatti in live ho messo, ieri ho detto, per me la Juve perde 3-1 stasera contro l'Atalanta. Perché sta l'Atalanta qui in palla, voglio dire, sfido chiunque a fermarla. Cioè sfido qualunque squadra ad affrontare una squadra così e non prenderle. Dal punto di vista del gioco, dell'orchestra, dell'organizzazione è una cosa pazzesca. Per quello che dico, per la classifica che adesso ha la Juve, complice la sconfitta di Inzaghi, del mago Inzaghi, del grandissimo allenatore Simone Inzaghi, che quando si provava a dire che secondo me è anche una bella squadra, usufruisce del lavoro, era intoccabile. L'Atalanta del Vate Inzaghi quest'oggi ha perso la terza partita consecutiva. La Juve è una classifica buona, tiene a distanza l'Atalanta, guadagna un punto sulla Lazio, è una buona classifica, ma è un pareggio che vale come una vittoria, soprattutto per il discorso poi della squadra che hai affrontato, di come l'hai affrontata, di come ti ha preso a pappinate il primo tempo. Ma vi ripeto, sfido qualunque tipo di squadra a non farsi prendere a pappinate da un'Atalanta del genere. Cioè l'Atalanta, insieme forse al Sassuolo oggi, è al terzo posto forse con la Juve, ma ben distante, sono le squadre più in forma della Serie A. Quindi io vi ripeto, è un pareggio ma da portare a casa dentro un cofanetto di oro per la Juve. Questo qua è veramente un pari da portare a casa in un cofanetto dorato. La Juve ragazzi, a mio avviso, ci vuol pazienza, perché questa squadra qui non è minimamente adatta al gioco che vuole fare Sarri. È una squadra che viene da anni e anni di successi in Italia, con tutto un altro tipo di testa. Ho sentito per una settimana criticare Sarri, perché si è fatto rimontare col Milan, scordando belluinamente che anche Allegri si fece mettere sotto 4-2 dal Bayern, stando in vantaggio 2-0. Però c'è sta critica qui, che io non sono anti-allegriano, per carità di Dio. State parlando con una persona che Allegri non l'avrebbe mandato via, ma da qui a fecare Sarri per ogni cosa, quando ha una squadra spompata di gente a fine ciclo e totalmente inadatta al suo gioco. E nonostante questo, nonostante avversari tipo l'Atalanta, tipo la Lazio che sembrava invincibile, un Inter comunque rafforzata sta portando avanti la carretta e invece viene sempre feccato a prescindere. Detto questo, andiamo con le pagelle perché poi permettono di analizzare bene la partita. Iniziamo dall'Atalanta, Gollini, ma Gollini 6, non gli si può dire niente. Toloi, 6, Palomino, 6, SimCity 3000, 6 anche a lui, Attebur, 6 e mezzo, Deron, 6 e mezzo, Froiler, 6 più, Castagne, 6 meno, perché al secondo tempo ha fatto diverse imprecisioni, Ilicic non mi è piaciuto molto, 6 meno anche a lui, Zapata, 7, Gomez, 7, Caldara, 6, Tamezza, bella cosa sul gol, 6 e mezzo solo per l'età e l'impegno, Muriel fa sempre il suo, assolutamente 7, Malinowski 7, Pasalic. Non voglio dare insufficienza all'Atalanta stasera, però gli do un 6 meno, non è entrato bene in partita, Gasperini tranquillamente un 7. Veniamo alla Juve, allora, Scesni, 6, quadrado, insomma, non propriamente il quadrado di sempre, non ho visto, ho visto un quadrado che ha sofferto un po' probabilmente il pressing dell'Atalanta, ho visto un po' che ha sofferto il pressing, gli do un 5 e mezzo, De Ligt bene, 6 e mezzo, Bonucci 6, Danilo male, cioè voi ditemi una Juve che gioca con la fascia di sinistra, Danilo Matuidi, cioè, parliamone, comunque Danilo 5, Rabiot benissimo stasera, giocatore in netta crescita, peccato per quell'errore sul secondo gol dell'Atalanta, se no era una partita, secondo me, da 7 tranquillamente, gli do 6 e mezzo solo per quell'errore lì, però Rabiot, Rabiot, ragazzi, è Rabiot, Rabiot e Rabiot. Betancourt stasera, a me Betancourt da regista non convince, io vi dico, apprezzo tanto Sarri, lo ritengo un ottimo conoscitore di questioni tattiche, ma io Rabiot, Betancourt regista è una cosa che non mi convince, probabilmente non era una partita da Pjanic, visti i ritmi, per carità, ma Betancourt per me è una mezzala, non è un regista. Betancourt non è un regista e le cose migliori le fa nelle cose da non regista, quindi gli do comunque un 6, però non è un regista, a mio avviso lo dico oggi, poi magari diventa Pirlo e mi cospargerò di feci il capo, però a mio avviso Betancourt non è un regista, però è un regista. Matuidi gli do 5 e mezzo, Bernardeschi 5, pieno, perché sono buono, perché mi sta anche simpatico tutto sommato, Di Bala, bene, primo tempo l'unico a salvarsi della Juve insieme a Rabiogli, da un 6 e mezzo, non l'avrei neanche tolto, anche se ho capito il discorso di Sarri di dare più profondità con Higuain, ma Higuain è il fantasma di se stesso, Di Bala a 6 e mezzo, Ronaldo 7, se non altro per la doppietta su rigore, Ram 6-6, Douglas Costa 6 più per l'impegno, Alexandro sicuramente meglio rispetto a chi ha sostituito 6 e mezzo, Higuain 5 e mezzo, troppo poco. A Sarri, cosa devo dare a Sarri stasera? Mi è piaciuto sui cambi, non mi è piaciuto nella formazione iniziale, specialmente per il discorso, però cosa vuoi dire della formazione iniziale? Nel senso che la difesa, ecco no, non mi è piaciuto il discorso di aver fatto iniziare Danilo al posto di Alexandro, quello resta. Pjanic fuori, non l'avrei tenuto fuori, però un Pjanic contro Stata Alanta qui, potevano essere veramente dolori, l'attacco è quello, perché voglio dire, Bernardeschi, se non metti lui, metti Douglas Costa dall'inizio, ma ti levi quel fattore sorpresa. Purtroppo le famigerate 5-6 squadre della Juve, sono vere solo in certi ruoli, perché centravanti da sostituire non ne hai, sulle ali, se usi quadrato o terzino, le scelte sono quelle, la difesa, mancano De Ligt e Bonucci, ed è un punto di domanda. Centrocampo, lasciamo perdere, e la situazione è questa, vi ripeto. A Sarri do, cosa devo dare? Pareggio comunque buono, diciamo dal 5 al 6, dai, dal 5 al 6, più che ama, ma anche lì, nel senso, non puoi neanche pretendere che Sarri, questa squadra qui, sia a livello dell'Atalanta, e quindi diciamo, fine, un pari anche buono, ma sì, dai, diamo un 6, diamo un 6, che comunque è un pari che, che ci sta, contro, contro una squadra anche in forma, una squadra difficile da affrontare, una squadra tignosa, e dico questo.